Buongiorno dallo studio 2 di Radio Più, guardate un po' quanta gente è venuta a trovarci questa mattina, guardateli che meraviglie, i nostri bambini di Cencenighe, sono tutti di Cencenighe, poi li conosceremo, ma abbiamo anche le maestre Carmela e Tiziana, ciao, ciao. Vogliamo dire cosa andremo ad ascoltare venerdì pomeriggio, Carmela? Allora presso il vostro sito troveranno gli ascoltatori il lavoro che è stato eseguito dai bambini della scuola dell'infanzia tratto dal concorso Fila Giotto dove si parla, dove hanno rappresentato più che parlare l'alluvione che ha colpito le nostre zone e attraverso alcuni disegni che raccolti insieme hanno preso il titolo di l'armonia delle mani dopo il vento e la distruzione. Allora venerdì nel corso del pomeriggio alle 15.10 oltre a sentire i bambini sul sito internet, ho anticipato Carmela, pubblicheremo il disegno dei bambini, i loro pensieri, il regolamento delle dita delle mani dove si potrà poi votare il lavoro migliore perché partecipano ad un concorso e adesso li conosciamo. Ora prima abbiamo fatto le prove, adesso dobbiamo fare bella figura. Tu chi sei? Giuliane. Ciao Giuliane, chi vuoi salutare? La mamma. Poi c'è? Emma. Ciao Emma. Chi vuoi salutare? Il papà. Il papà, che si chiama? Francesco. Ciao Francesco. Rosa. Ciao Rosa, chi vuoi salutare? La mamma. Chi si chiama? Non te lo ricordi? E come no, come no. Pensaci poi me lo dici. Tu? Giovanni. Ciao Giovanni. Vuoi salutare qualcuno? Tiziano. Poi abbiamo scoperto che qua abbiamo due morosetti, vero? Sì. Chi sono? tu chi sei? Ambra. E tu? Davide. Davide. È stata brutta l'alluvione, eh? Sì. È stata brutta. Poi c'è Stella. Ciao Stella. Ciao. Chi vuoi salutare, Stella? Il papà. Il papà, chi si chiama? Paolo. Paolo. E poi? Ah, tu sei quello che non mi ha fatto ancora sentire la voce, vero? Ti chiami? Dillo forte. E? 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 R? Erio. Ciao Erio. Ciao Erio. Ti è avuto in mente? Sono emozionati, oltre che timidi. Facciamo un saluto? Pronti? Al 3? 1, 2, 3? Ciao. Non ho sentito? Ciao. Voi avete sentito? No. No? Ciao. Questo era fatto bene, però potete fare di meglio. 1, 2, 3? Ciao. Adesso lo facciamo più difficile. Ciao Radio più. 1, 2, 3? Ciao Radio più. Come? Ciao Radio più. Ora ci sentiamo venerdì pomeriggio alla radio? Sì. Ci sarete tutti? Sì. Tu da grande farai ginnasta? Farai ginnastica? Fammi vedere come facevi? Riprova? Riprova? Adesso non lo fai più? L'hai fatto per tutta la trasmissione. Ciao bambini? Ciao. Ciao.